Ragazzi, Oddo è stato appena esonerato dalla società dell'Udinese Ragazzi, se mi vedete con questa maglietta del Manchester City perché appena sto tornando da giocare a calcio Ragazzi, però, Oddo è esonerato, io non sono per niente d'accordo Video veramente molto veloce, appunto per darvi solamente questa notizia Questa notizia è uscita nel pomeriggio, io ve l'ho subito voluta portare poco prima che inizi la partita Liverpool-Roma, ragazzi, Oddo quindi è esonerato dopo 11 partite consecutive che ha perso Non penso che sia mai successo, inseriamo anche il Benevento praticamente Ragazzi, il sostituto sarà Igor Tudor, ragazzi Igor Tudor è un difensore, ha giocato anche alla Juventus per molto tempo titolare Ha allenato il Pau Xanolico e i Galatasaray Preledevi principalmente il 4-2-3-1 come le dice OneFootball Quindi andatevi a scaricare l'app OneFootball per avere maggiori informazioni Comunque, ragazzi, secondo me è una cosa veramente ingiusta Perché è una cosa veramente ingiusta? Perché secondo me Oddo non ha nessuna colpa Non ha nessuna colpa Perché non ha nessuna colpa? Perché, ragazzi, Oddo secondo me ha vinto 7 partite consecutive Ne ha perse 11, alla fine ce ne ha perse solamente 4 Cioè, ragazzi, voi vedete, no? Secondo me non è una questione di allenatore Perché adesso, vedete, Igor Tudor che è venuto Secondo me non cambierà proprio niente È una questione di squadra, secondo me è successo qualcosa all'interno dello spogliatoio Cioè, ragazzi, vedete, l'Udinese passava sempre in vantaggio Contro la Lazio stava vincendo 1-0 se è fatta rimontare 2-1 Contro il Cagliari stava perdendo 1-0 se è fatta rimontare 2-1 Contro il Napoli stava vincendo per due volte Se è fatta rimontare per tre volte consecutive Contro il Crotone stava vincendo 1-0 se è fatta rimontare 2-1 Cioè, ragazzi, secondo me qui non è colpa di Oddo Perché Oddo è veramente un grande allenatore a Palermio Poi, secondo voi, non so Però, secondo me, ragazzi, o è successo qualcosa all'interno dello spogliatoio O altrimenti no Tutti gli abitanti di Udinese, tutti i tifosi Si sono lamentati appunto con la società Perché, secondo loro, Oddo non aveva colpe Infatti, secondo me, Oddo non ha colpe Che ne so Cioè, ragazzi, secondo me è successo qualcosa all'interno dello spogliatoio Adesso, ragazzi, vediamo Tudor La sua prima esperienza in Serie A da allenatore Non ha mai allenato una squadra, appunto, in Serie A Doveva venire stramaccioni come tutti pensavano Alla fine No, viene Igor Tudor, ragazzi Igor Tudor Dobbiamo solamente vedere Io ripeto, secondo me è un esonero ingiustissimo Ingiustissimo Anche se adesso non dice battite Ma secondo me è colpa della squadra È successo qualcosa all'interno dello spogliatoio Comunque, ragazzi Come sempre, noi ci vediamo fra poco Perché, appunto, fra poco ci sarà il post Il post Liverpool-Roma Ragazzi, vi do anche il risultato esatto Uno a uno Marcatore Salah e Adinjeko Ragazzi, se prendo questa Cioè, veramente, me ne devo solamente andare Comunque, ragazzi Adesso io vado a tifare Roma Con la maglietta del Manchester City, giustamente Vado a tifare Roma Ragazzi, noi ci vediamo fra poco E ciao Bella Ciao